E tu lo sapevi che esiste una cassetta porta-impasto senza scalino? E sì, quel fastidioso gradino che ogni volta prendi dentro quando tenti di estrarre i panetti dalla cassetta. Da oggi il problema è risolto. Sembrano le normali cassette per pizza napoletana 30x40, ma sono totalmente lisce e disponibili in due versioni. Salva spazio alte 7 cm e le tradizionali alte 10. Ah, quasi dimenticavo, anche i coperchi sono più piccini e non sporgono più dalla sagoma della cassetta. Quindi niente acrobazie quando devi infilare o estrarre gli impasti dal frigorifero. E ora dimmi, chi è più attento di giochi di gusto a questi piccoli particolari? Ciao ragazzi, alla prossima!